Voglio fare un augurio a voi ragazzi, quello che nel nuovo millennio possiate trovare sotto l'albero di Natale la certezza di un lavoro, di una professione che vi possa far sentire realizzata, che vi consenta di mettere su casa con la ragazza o il ragazzo chiamato. Si può fare, sappiamo come farlo, lo faremo presto. A tutti voi, ragazzi e ragazze del 2000, tanti auguri da questo ragazzo un po' stagionato, ma con il cuore sempre giovane.